Storia della razza. Le prime notizie sulla creazione di uno Schnauzer Standard in Germania risalgono alla fine del XIX secolo. Originariamente sono stati allevati come cani da fattoria di media taglia in Germania, ugualmente adatti per tenere, allevare e proteggere la proprietà. Nel tempo gli allevatori hanno sviluppato lo Schnauzer Standard in una taglia più piccola e compatta per i ratti, abbinandolo, secondo la teoria canina, ad una o più razze di piccola taglia come a Fennpinscher e Barboncino Nano, Pinscher Nano o Pomerania, o con i più piccoli esempi di Schnauzer Standard, la prima miniatura di Schnauzer registrata a Parve nel 1888, una femmina nera di nome Findel, e lo Schnauzer Pinscher Club menziona un Pinscher in miniatura a pelo duro nel suo primo volume del libro genealogico del Club. La prima mostra ebbe luogo nel 1899. L'American Kennel Club accettò la registrazione della nuova razza nel 1926, due anni dopo l'introduzione degli Schnauzer nani negli Stati Uniti. Il miniature Schnauzer Club of America è stato formato nel 1933 dal vecchio club genitore dell'American di Reaire Pinscher Club, che includeva anche lo Standard Schnauzer, e originariamente entrambi gareggiarono nella stessa classe fino al 1927. Le classificazioni dell'International Kennel Club variano, VDH e FC lo collocano nel gruppo 2, divisione 1 Pinscher e Schnauzer, altri club in divisione 1.2 dedicati alla razza Schnauzer Nano, mentre i club AKC, UKC e CKC collocano lo Schnauzer gigante nel gruppo dei Terrier. Si ritiene che l'emergere del moderno Schnauzer Nano negli Stati Uniti sia iniziato nel 1924, quando quattro cani furono importati dalla Germania. Si dice che quasi tutte le miniature di razza americana derivino in parte da loro, con altri 108 cani importati tra il 1926 e il 1936. Uno dei campioni più importanti è stato Doran Display, nato nel 1945, e vissuto fino a 14 anni. Si sostiene che molti campioni di Schnauzer in miniatura in America, posano far risalire i loro antenati a Doran Display. Gli Schnauzer Nani si sono classificati all'undicesimo posto più popolari negli Stati Uniti nel 2008, e al diciassettesimo nel 2016. Una razza di cani decorativi, allevati incrociando uno Schnauzer, a Fempinscher e forse un barboncino. I cani sono usati come compagni, guardiani e cacciatori di topi. Giocosi, intelligenti, obbedienti, sono completamente fedeli al proprietario, e ai suoi familiari, amano i bambini. Tra gli svantaggi, c'è l'aggressività nei confronti dei cani, anche di grossa taglia, che spesso porta a gravi conseguenze. Punti salienti e fatti interessanti. Lo Schnauzer Nano è stato riconosciuto dalla AKC nel 1926, ed è l'ottantesimo razza del club. Lo Schnauzer Nano è la più popolare delle tre razze di Schnauzer. Lo Schnauzer Nano ha un doppio mantello, che richiede un'attenta pulizia manuale se è prevista una mostra canina. La maggior parte dei proprietari di animali domestici preferisce tagliare il pelo del cane, il che rende più facile prendersi cura del cane. Lo Schnauzer miniatura discende dallo Schnauzer standard e si dice che si sia evoluto dalla mescolanza di a Fempinscher e barboncini con piccoli Schnauzer standard. La razza è stata esposta come razza separata nel 1899. I senatori Bob e Elizabeth Dole, l'attrice Mary Tiller Moore, l'attore Bill Cosby e l'attore di arti marziali Bruce Lee possedevano Schnauzer in miniatura. Lo Schnauzer gigante è di origine tedesca, ed è riconoscibile nelle fotografie del XV secolo. Lo Schnauzer nano è stato originariamente allevato come un piccolo cane da fattoria in grado di distruggere tutti i tipi di parassiti. Aspetto? Secondo lo standard, lo Schnauzer nano è un cane piccolo, forte, di forma quadrata, a pelo duro e aggraziato. La miniatura dello Schnauzer dovrebbe essere una copia ridotta di uno Schnauzer standard senza ananismo associato. Altezza algarrese 30 al 35 centimetri, peso 4 agosto chilogrammi. Il pelo è molto ruvido e spesso. Consiste in un sottopelo denso e uno strato superiore duro e benaderente. Il pelo di copertura è ruvido, lungo quanto basta per distinguerne la struttura, né arruffato né ondulato. Il pelo sugli arti tende ad essere meno duro. È corto sulla fronte e sulle orecchie. Come caratteristica tipica forma una barba non troppo morbida sul viso e sopracciglia folte che pendono leggermente sopra gli occhi. Colore. Nero puro con sottopelo nero pepe e sale. Nero con argento. Bianco puro con sottopelo bianco. Fino al 1976 venivano riconosciuti due colori. pepe e sale e nero puro. Il terzo colore, nero e argento, che è diventato molto popolare nel tempo, è stato approvato nel 1976 in Germania, e un anno dopo è stato riconosciuto dalla FCI. Il quarto, bianco, è stato riconosciuto dalla FCI nel 1992. Il colore cioccolato FCI non è ancora stato riconosciuto, ma dalla fine del 2006 è stato riconosciuto nella Federazione Russa. La testa è grande, con una caratteristica barba e sopracciglia, che si assottiglia gradualmente dalle orecchie agli occhi e dagli occhi al naso. Le sopracciglia arruffate accentuano il passaggio dalla fronte al muso. I denti sono forti, bianchissimi, con chiusura a forbice. Orecchie tagliate, erette o non tagliate, vicine alla testa i piedi sono corti, arrotondati, ben saldati, con forti unghie scure e cuscinetti rigidi. Tratti distintivi del carattere. Tutti gli Schnauzer differiscono l'uno dall'altro solo per le dimensioni, altrimenti sono simili. Come tutti i rappresentanti del gruppo Schnauzer, lo Schnauzer nano è un cane vigile e agile, allo stesso tempo obbediente facilmente ai comandi. Non è molto amichevole con gli estranei, ma è intelligente, e sempre pronto ad essere d'aiuto. Non aggressivo o timido. Difidente nei confronti degli estranei, sempre allerta. E un'altra nota importante. Lo Schnauzer in miniatura, è un brillante rappresentante della famiglia degli Schnauzer, ma con la crescita più modesta. Questa crescita è anche il suo indubbio merito, ma è anche la fonte delle principali difficoltà. Una miniatura è uno Schnauzer con un grosso cane che vive in un piccolo corpo, e questo è il suo problema principale. Il problema con la comprensione dei proprietari di che tipo di animale, è appeso al guinzaglio, è il problema della discrepanza tra l'atteso e il ricevuto. Il problema è che le persone che erano riuscite ad acquistare una miniatura come animale domestico da divano di casa non si aspettavano di ricevere uno Schnauzer gigante in pillola con tutte le caratteristiche specifiche inerenti alla famiglia degli Schnauzer, vale a dire. Attenzione agli altri e desiderio di proteggere il proprietario, e la proprietà del padrone. Nel tentativo di comunicare alla pari con tutti i cani, indipendentemente dalla loro taglia, in presenza di energia e notevole intelligenza. E la cosa più importante è la capacità di obbedire incondizionatamente solo a coloro che sono più veloci, più intelligenti, più forti e migliori. Manutenzione e cura. La miniatura Schnauzer prospererà con cibo per cani di qualità. Qualsiasi dieta dovrebbe essere appropriata per l'età del cane. Alcuni cani tendono ad essere in sovrappeso, quindi tieni d'occhio l'apporto calorico e il livello di peso del tuo cane. I dolcetti possono essere un importante aiuto per l'esercizio, ma troppi possono causare obesità. Rivolgiti al tuo veterinario, se hai dubbi sul peso, o sulla salute del tuo cane. L'acqua pulita e fresca dovrebbe essere sempre nella ciotola. Lo Schnauzer nano ha un doppio strato. Un rivestimento resistente con un sottopelo morbido che richiede frequenti spazzolature e toilettature per mantenerlo al meglio. Le razze perdono molto poco. Per il ring, parte del pelo del cane, viene regolarmente spogliato a mano. La maggior parte dei proprietari di Schnauzer in miniatura, preferisce farsi tagliare i capelli da un toilettatore professionista. Questo dovrebbe essere fatto ogni 5-8 settimane per mantenere il tuo cane al meglio. Uno Schnauzer nano dovrebbe fare il bagno una volta al mese. Le unghie devono essere tagliate mensilmente, e le orecchie devono essere controllate settimanalmente per detriti o cera in eccesso e pulite secondo necessità. Vigili e agili, gli Schnauzer nani hanno bisogno di un regolare esercizio quotidiano per mantenere la loro salute mentale e fisica. Hanno un livello energetico medio e si adattano facilmente alla vita urbana o suburbana. La loro gioia più grande è stare con la loro famiglia e praticare insieme. Gli Schnauzer nani hanno un forte istinto da preda, quindi non dovrebbero mai essere liberati dal guinzaglio quando non si trovano in un'area recintata in quanto potrebbero iniziare a inseguire piccoli animali. Gli Schnauzer nani sono amichevoli, agili, desiderosi di compiacere e imparano rapidamente. L'elevata intelligenza della razza rende necessario mantenere l'allenamento divertente e interessante, poiché possono annoiarsi con la ripetizione. Dovrebbero essere socializzati fin dalla tenera età, e, come cane, anche il proprietario trae beneficio da tali attività. La miniatura Schnauzer è un compagno eccellente, e può esibirsi molto bene in una serie di sport canini tra cui l'agilità, l'obbedienza, il rally. Salute. Secondo un sondaggio del Kennel Club of Reat Britain, l'aspettativa di vita media degli Schnauzer nani è di poco superiore ai 12 anni. Circa il 20%, ha vissuto per più di 15 anni. Sebbene sia una razza generalmente sana, gli Schnauzer possono soffrire di problemi di salute associati ad alti livelli di grasso. Tali problemi includono l'iperlipidemia, che può aumentare la probabilità di pancreatite, sebbene ognuno di questi possa formarsi indipendentemente. Altri problemi che possono influenzare questa razza sono il diabete, i calcoli alla vescica, e i problemi agli occhi. Nutrire il tuo cane con cibo a basso contenuto di grassi, magro e non zuccherato può aiutare a evitare questi problemi. Gli Schnauzer nani sono anche inclini al comedone, una condizione in cui si sviluppano protuberanze piene di pus, solitamente sulla schiena, che possono essere trattate con vari trattamenti. Negli Schnauzer nani, le orecchie dovrebbero essere asciugate dopo il nuoto a causa dell'ischio di infezione, un esame completo dell'orecchio dovrebbe far parte del regolare controllo annuale. Gli Schnauzer nani sono anche suscettibili alla malattia di von Willebrand, una malattia emorragica ereditaria che si verifica a causa di una carenza qualitativa o quantitativa del fattore di von Willebrand, una proteina multimerica esenziale per l'adesione piastrinica, prezzo e come acquistare correttamente. L'età ottimale in cui i cuccioli sono pronti per lo svezzamento dalla madre, è di un mese e mezzo. Al primo incontro, assicurati di prestare attenzione al comportamento del cane. Uno stile di vita attivo, un aspetto sano e il desiderio di giocare, sono segni che questa è l'opzione giusta. Durante la conoscenza dei cuccioli, non sarà superfluo controllare i documenti disponibili per chiarire lo stato di vaccinazione. Un fatto importante. Dovresti assolutamente prestare attenzione alla pelliccia dell'animale, alle condizioni dei suoi occhi, e delle sue orecchie. L'acquirente dovrebbe chiarire la dieta della madre, le abitudini alimentari e le preferenze dei cani. I cinologi consigliano di acquistare un cucciolo in un canile specializzato. Quindi è molto più probabile che acquisti un cucciolo con un pedigree da buoni genitori, che sarà forte e sano. Presta attenzione a come si comporta il cucciolo tra i suoi parenti in condizioni naturali, a come comunica o gioca con loro. Monitora il comportamento alimentare del tuo cucciolo scelto. Forse il cucciolo ti ricambierà e mostrerà interesse per te come potenziale proprietario. Se ciò accade, non esitare e acquista. Il prezzo medio per un cucciolo è di 1000 al 1500 dollari. Linea di fondo. Schnauzer miniatura, Schnauzer miniatura, Schnauzer nano, fino al 1895 in Germania, e fino al 1926 negli Stati Uniti, anche il Pinscher a pelo duro, il più piccolo cane di servizio al mondo. Lo Schnauzer nano è la razza più piccola del gruppo Schnauzer. Ci sono tre colori riconosciuti in tutto il mondo. Pepe e sale, nero, nero e argento e bianco, non riconosciuto negli Stati Uniti. Nonostante il suo aspetto divertente, lo Schnauzer nano è un cane molto serio, senza paura, sensibile, attento, facile da addestrare e fedele al suo proprietario.